Carissimi, siamo arrivati finalmente al cuore dell'intero anno liturgico. Domani, con la celebrazione della Santa Messa nella Cena del Signore, inizia il solenne triduo pasquale, attraverso il quale, da tre prospettive diverse, il Signore ci presenta la sua alleanza nuova ed eterna con noi. Ringraziando ancora una volta Telemax per l'opportunità che ci dà di trasmettere le celebrazioni e i riti attraverso la televisione, vi invito a seguirci domani sera alle ore 18 per questa celebrazione. Poi celebreremo ancora, ma ve lo ricorderò, alle 15 del pomeriggio di venerdì e alle 23 la solenne veglia di Pasqua, le 23 del sabato santo. Vi aspetto domani alle 18 per la celebrazione nella Cena del Signore.